musica 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 perché hai mollato il quadrato eh vabbè lascia stand ok un 32 gliel'ho fatto vaffanculo vieni dentro non puoi curarmi una grande sinistra uno è sceso dai dai questa è persa non ce la faccio più musica 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 io avevo un medico si riesce a prendertelo da qualche parte eh no eh mo ma non non mi 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 non ho la cazzo qua metto i barricavi la cazzo qua